La denuncia contro i più grandi evasori fiscali Quanto meno di quelli comprovati perché abbiamo denunciato i più grandi evasori a seguito della campagna pubblicitaria della pubblicità progresso fatta a spese di tutti i contribuenti cittadini italiani che paragonano i parassiti del cane, del legno, dei pesci eccetera eccetera agli evasori fiscali che li definisce appunto parassiti della società economica. Tra parentesi appunto sottolineiamo a questo punto la manovra quanto mai malaccorta direi cretina che è quello di convogliare l'odio dei cittadini italiani nei confronti di queste persone. Questo era il sistema che usavano in Russia nella denuncia per le burghe saliniane. Certo, ma l'hanno sempre fatto. Certo, con i coglioni si fa però questa cosa. Perché gli italiani, è vero che sono abbastanza coglioni, ma da questo punto di vista non abboccano proprio. Sanno che sono i veri evasori e quelli che noi abbiamo elencato in questa denuncia. Sono i veri evasori. Allora qui parliamo di complessivi 6.800 miliardi di Euro di evasione fiscale permessa negli ultimi 5 anni. Perché ovviamente l'intentativo di recupero delle... Permessa perché è spesso condonata? Certo. In quel senso? No, magari ci fosse stato un atto di condono. Qui non c'è nessun condono. Chiudono gli occhi e basta. Ah, è diverso. Certo. Allora qui parliamo fra l'altro, citiamo e denunciamo anche il caso delle slot machine e delle... Dei videopoker. Dele sale... Lo scandalo dei videopoker. Esattamente, dei giochi regolari e non regolari delle slot machine e dei videopoker quant'altro. Se non ci fosse dietro camorra, mafia, drangheta e quant'altro, sicuramente qualcuno andrebbe a metterci il naso sopra. In realtà non ci va nessuno proprio perché quelle sono zone franche. E invece strozzano i cittadini. Esattamente, ma la cosa grave in tutto questo è che c'è stata una sentenza di corte di cassazione, quindi non è una supposizione, una presunzione di reato o di evasione. Qui siamo nella certezza del diritto, di fatto e di diritto, che questa gente qui ha scuffato allo Stato 98 miliardi di euro di evasione fiscale. Ci sono gli articoli sui giornali di questi giorni. Lo Stato sta trattando perché questi signori, presi con le mani nel sacco e dove oramai non possono più intervenire in nulla, stanno cercando di trattare con lo Stato per chiudere al 30% e cioè pagare 30 miliardi di euro. Allora, io dico questo. È mai possibile che lo Stato che deve prendere i soldi da persone certe, per fatti certi, per entità e quantità certe, va a mettere le mani in tasca invece a tutti i cittadini, sottraendo 63 miliardi o 43, non si sa bene quanti siano, quando ne deve prendere 98. Quando io dico appunto c'è qualcuno che deve pagare e fra l'altro fa un mestiere anche molto lurido, molto infame, quello della gestione delle case da gioco d'azzardo, le quali tra l'altro... Che corrisponde a convenzione di incapace, perché oltretutto ce la prendono con gli più grandi cretini. Ma poi lì c'è un giro, non è solo quello. Anche perché quei giochi sono fatti per rimettere i soldi, non per vincerli sicuramente. Il giro poi, sappiamo dove va a finire, perché una volta identificate le persone che si giocano in questi giochi infami, ci vanno pure a casa a rubare poi, non è che finisci lì, ci sono i ricatti delle persone... C'è tutto il giro, c'è tutto il giro, insomma, è chiaro. E quindi noi abbiamo denunciato appunto... Ma non è solo questo, questo è uno dei tanti denunci che noi abbiamo fatto. Allora, questa è l'ultima denuncia di una serie, esattamente la quinta, se mi ricordo bene, ed è per essere ligi e per fare la metafora alla sceneggiata messa in piedi dal sistema del KGB italiano, perché il KGB ci ha detto che dobbiamo denunciare i nostri vicini. E allora, siccome noi siamo a conoscenza dell'evasione fiscale messa in atto dai più grossi evasori fiscali, parliamo, come ha detto complessivamente, qui denunciati 6.800 miliardi... C'è la Banca d'Italia, c'è tutta questa roba qua. Le banche commerciali italiane, lo Stato del Vaticano e lo Stato italiano stesso, che evade tasse per circa 10 miliardi di euro, solo non pagando la tassa sul canone Rai, la cosiddetta tassa Vanoni. Esatto. Ti ricordi, no? Ecco, esatto. Cioè, praticamente la gente non sa che, per esempio, dovrebbe pagare il canone Rai, la tassa Vanoni, su tutti gli apparecchi che possiedono uno schermo, quindi videocitofoni, computers, portatili, palmari, cellulari, eccetera, 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 eccetera. Ecco, lo Stato detiene per uso burocratico, amministrativo, milioni di questi apparecchi, non paga le tasse Rai. Quindi, questo per dire che dobbiamo incominciare a pensare diverso, a think differente, no? Cioè, dobbiamo incominciare a pensare in maniera costruttiva, non ci dobbiamo far condizionare dai messaggi subliminali o meno di questi infami che controllano l'informazione e la formazione e la cognizione e la concettualizzazione e tutte queste cose qua. Cioè, noi dobbiamo incominciare a diventare uomini liberi, liberi pensatori, perché solo così possiamo gestire il nostro futuro e la nostra realtà. E soprattutto, no, e soprattutto ribellarsi contro la rapina. In questo momento sta andando avanti un'operazione che è stata concepita personale, individuale, sociale, collettiva, statale, industriale, eccetera. È stata concepita per far male alle minoranze. Molto tempo fa, che è appunto quella di ridurre sempre di più l'umanità semplice in schiavitù. In schiavitù, nel vero senso della parola. Il passo più importante è quello di togliere tutto quello che è stato ottenuto in centinaia di anni di lotte e soprattutto quello che viene chiamato con termine francese welfare, scusate, con termine inglese welfare. Allora, questo lo devono togliere, tant'è vero che verranno tolti parte degli assegni familiari, l'assistenza agli handicappati, tutte queste cose, l'operazione, l'assistenza domiciliare. Per cui quando uno va a chiedere quello che gli spetta di diritto, gli diranno non ci sono i soldi, però per loro ci sono, ci sono per fare queste cose. Allora, notizia di oggi, quell'infamone di Obama Bin Laden, che sta a capo del governo sono statunitense, oggi ha detto che stamperà, con la sua stamperia clandestina, 400 miliardi di dollari per far ripartire l'economia americana. Allora, sappiamo bene che Gianni stampa 400 miliardi al giorno, quindi che lui dica che adesso fa ripartire l'economia americana è un guasile. Bisogna vedere se glielo permette la Cina, o adò la Cina, la Russia oppure soprattutto lo permette il Brasile. Allora, lì c'è un discorso un po' più profondo da discutere, c'è il BRIC, c'è il Brasile, la Russia, l'India e Cina, che già sta dicendo che non accetterà più situazioni del genere. Si sono anche ribellati al bombardamento in Libia. Esattamente, ma non solo, cioè i giochi oramai, mentre prima c'era un dualismo di cortina di ferro e quant'altro, prima dell'appartimento del muro di Berlino e del scioglimento della guerra preta, del discioglimento dei ghiacci e quindi poi un unico attore protagonista sulla scena mondiale, oggi l'attore ha finito le cariche, ha finito le cartucce, ha finito l'energia e quindi oggi sappiamo… Pure le controfigure ha finito. Certo, ha finito le controfigure, oltretutto. La presa di posizione dell'altro ieri, del 4 settembre, di Erzogan è stata una cosa illuminante. ha detto, amici cari, qui i giochi sono finiti, qui incominciamo a rispettare i diritti internazionali, altrimenti qua succede il patatrack. E ha messo in linea i truppe cammellate israeliane degli americani. No, ha detto ragazzi, qui noi andiamo con le nostre navi dove cazzo ci pare e adesso programmiamo a brevissimo una visita ufficiale del presidente turco nella zona di Gaza. e quindi, oltre al riconoscimento, chiudiamo tutti i rapporti industriali e commerciali e di cooperazione internazionale fra Israele e la Turchia e poi è da vedere il resto. No, e poi ha detto, la cosa più importante, con questo chiudiamo, perché sennò diventiamo troppo noiosi, ha detto che da ora in poi qualsiasi nave che arriverà di aiuti a Gaza sarà scortata dalla flotta militare di Burka. E quindi è tutto da vedere. Con questo la chiudiamo. No, voglio però fare di nuovo un appello per dire, noi abbiamo presentato questa denuncia ad uso e consumo nostro, dei cittadini e della collettività tutta. E lo mettiamo online sul sito di Alba Mediterranea 1, scritto tutto Alba Mediterranea di Sede. Affinché altri facciano uguale. In modo che i cittadini possano scaricarlo, lo possano leggere, lo possano valutare ed eventualmente presentare e depositare a loro a qualunque tenenza dei Carabinieri, commissariato o una guardia di finanza, che la guardia di finanza è la più indicata in questo caso visto che riguarda delitti finanziari, e procura della Repubblica di tutta la nazione. Quindi, ragazzi, se davvero volete cambiare le cose, ora non è più tempo di chiacchiere. Ora è tempo di azione. Quindi, muovetevi. Grazie.